New Delhi è una camera a gas. La concentrazione delle polveri sottili nella capitale dell'India è di 810 microgrammi per metro cubo, 32 volte superiore al limite dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La cappa di smog è talmente fitta che le principali compagnie aeree hanno diviato i voli in arrivo all'aeroporto Indira Gandhi. Le autorità hanno distribuito 5 milioni di mascherine e disposto la chiusura delle scuole fino a martedì. Oltre ai problemi respiratori l'inquinamento in questi ultimi giorni sta intaccando anche gli stati d'animo. Non è inverno quindi non è sicuramente nebbia e andiamo in giro con le mascherine. È soffocante e continuiamo a tossire. Speravamo che questa leggera pioggia portasse a un miglioramento delle condizioni e della visibilità ma non mi pare che la situazione sia cambiata. Nella sua visita di venerdì scorso la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sollecitato maggiori sforzi per ripurire l'area di New Delhi impegnandosi a stanziare un miliardo di euro per aiutare le città indiane a passare a trasporti più ecologici.